Ciao, sono Luca Braidot, argento nel mountain bike nei giochi europei di Glasgow 2018 e migliore azzurro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. La bici è la mia scelta e il titolo della campagna promossa da ZGO nell'ambito del progetto europeo CycleWalk. Sono felice di essere testimonial di questa campagna perché andare in bici è sempre stata la mia scelta fin da piccolo. Andare in bici per me vuol dire stare all'aria aperta, allontanarmi dal caos della città. In più è uno stile di vita sano, è un modo di spostarsi economico e alla portata di tutti. In questa zona, tra Nova Gorizia, Gorizia e Schempeter-Vertoiba, verranno costruiti dei percorsi ciclopedonali trasfrontalieri in cui sarà possibile fare sport, stare all'aria aperta e soprattutto ammirare paesaggi unici e suggestivi. La bici è la mia scelta. La bici è la mia scelta.